Sì, certamente è uno scenario da temere e certamente avendo detto che ci vuole una maggioranza ampia, anche più ampia dell'attuale, perché l'azione di questo Governo continui, è immaginabile – e questo in un certo senso lo chiedo a tutti, ma lo chiedo soprattutto alle forze politiche – una maggioranza che si spacchi sull'elezione del Presidente della Repubblica e si ricomponga magicamente quando è il momento di sostenere il Governo? Questa è la domanda che dobbiamo farci. Grazie.